Ciao ragazzi sono Ninja Hyper e in questo video reagiremo per la seconda volta nel canale le partite dei più forti giocatori di Brawl Stars OLS è diventato una serie, like se ti piace questa serie A Ruffa Gemme hanno tutte e due le squadre le stesse comp Beh non sono male per questa mappa Beh vedo che adesso sono un po' tutti e due in difficoltà Perché vabbè ne raffaggiamo con i pro player sempre una cosa difficile Attenzione che Fade attiva il gadget arrabbiato senza proprio un valido motivo Attenzione che Fade di nuovo ha fatto fuori l'altra sendy nemica Sta succedendo davvero un casino Attenzione che Fade è morto proprio su Fade e tutto Ormai capita Ok vedo che Attenzione no 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 La squadra nemica sta diciamo non vincendo perché Però si sono messi bene Hanno fatto fuori tutti Attenzione attenzione Sono in parità Questa partita non finisce più Sta andando avanti da almeno tre minuti Attenzione gadget su gadget Le due maxine Ovviamente la squadra blu Che io voto sempre per la squadra blu Sempre Non so perché ma si fanno fuori Attenzione che rinascono E Ma è una situazione Veramente complicata Attenzione nove gemme contro sette gemme Attenzione Ha fatto la ultima Non ci creda Ricoperati in una maniera Aveva nove gemme Quell'Eugenio Ma non ci voglio credere Proprio Cioè Se l'Eugenio non aveva la super Non so come potevano vincere Hanno vinto i tribe E direi anche di nuovo Perché nel video precedente Della reazione I giocatori Vincevano di nuovo i tribe Quindi si i tribe Sono proprio Allenatissimi top Vi rimetto la scena in cui Ha fatto il free più grande Della sua vita E sbam Perché è grazie alla ulti Che hanno vinto i tribe Nuova partita Stessa mappa Ma con comp diverse Vedo che Boh già subito Un bel gadget Beh direi che Avrò messo i gadget lì È una cosa utilissima Visto che ci si sta già facendo la ulti Più il gadget È già una cosa incredibile Vedo che Le comp non sono uguali Come prima Ora sto vedendo Attenzione perché Erano i fade Vabbè quelli lì Che avevano perso prima Ma con una comp diversa Vediamo se Ora riescono a vincere Con altri giocatori Visto che prima Hanno fatto una sconfitta Proprio Terrificante Non so perché Ma ho il dubbio Che vincono La squadra rossa Beh vedo che Terra ha fatto il gadget Così può vedere Che cosa stanno combinando La squadra blu Beh vedo che Sono molto in vantaggio La squadra rossa Attenzione perché L'Eugenio blu Ha la ulti Io ho paura Se fa una nuova filata Del genere Come ha fatto prima E ho una paura Bestella Attenzione si grabba Tara Se forse grabbava Eugenio ragazzi Sarebbe stato tipo Un meme Attenzione perché Tara ha la ulti Non so cosa vuole Combinare Non credo niente Attenzione perché Gli stanno un po' Chiudendo La squadra rossa Ma Ho visto Cioè Non so più parlare Comunque Vedo che Eugenio col gadget Cora Cioè no col gadget Con la star power Cora Tara ma attenzione Stanno vincendo No no 8 o 10 Del gemme Non è possibile Se si prende un'altra gemme Va a finire parità Che la gara ancora continua E il countdown Non c'è ovviamente È stesso così Da GG Io A sto punto temo Che vince la squadra blu Perché Hanno unici gemme Il countdown Si riavvia Per la Seconda o terza volta Attenzione Io Io Consiglio la squadra blu Di mettersi un po' In difesa Dietro Ma il brutto Che Questo succede A tutti Non 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 si capisce niente Ma sto countdown Sembra che è baggato Se Se fa avanti Indietro la mattina Alla sera Attenzione Che fa addirittura Quelle emoti Con felice Tara C'è proprio Un LOL Attenzione No si è grabbato Di nuovo No Io non capisco Cioè si è grabbato Di nuovo Genio Però vince la squadra blu GG Il video finisce qui Spero che questa serie Vi piaccia E Commentate Un po' Di cosa ne pensate Mi sono divertita Veramente tantissimo Like Iscrizione Campanella Al prossimo video Ciao